L'altro ce l'ho qua io, tieniti quello tu, eh. Io ce l'altro qua. Aspetta, ma non passano i proiettili, ma come è possibile? Audio, audio. È qua, eh. Eccolo. È ferito? È lì, eh. È ferito di nuovo. Ok, l'altro è qua da me. Qua. Dentro? No, ce n'è un altro, sono due team. Sono due team, è sopra il tetto. Presa, sono morto. Morto quello sul tetto? Porca troia, perché non mi mette le cose? La siringa. Scappa, scappa, quello lì. Quanta gente c'è, zio. Ho ucciso uno sul tetto. Ah, lì, torna rosso, c'è un altro. Di lì. Qua, 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 qua. Che cazzo? Arrivo. Non ho riuscito a scappare. Sta ritornando anche l'altro. Tevo cura, me tevo cura. Tevo cura? Io guarda tu. È un macello, è pieno di gente. Vieni verso di me, ce n'è uno di qui. Dai, uno di lì e uno di qua. È la femmina, è la femmina del primo, sì. È uno qua da me? È sul tetto uno. Può essere che provi... Occhio, sì, è sul tetto. Occhio che prova a restare. Uh, porca puttana. Vabbè. È quello che stava qua. Morto. Che culo! Ha salvato coso. Occhio che ti puscia. Eh, c'è il cane, c'è il cane. Morto uno. Morti tutti e due. Morti due. Morti due. Vado a una mia. Questi qua sono morti. Occhio. Morto uno di là? Ma cosa sta succedendo? Insomma, quanta gente c'è? Ma cosa sta... Guarda, tutti qua. È pieno, è pieno. Vabbè. Resilienza. Sì, che potrebbe essere un vero. Ho capito quanto ha rischiato. Quanto ha rischiato. Non mi metteva la cosa. Ma lo vedi? Ma... Ma scusa, eh? Ma se il mio premo destra mi mette... No. No, vabbè. Guarda, c'è qualcun altro, me sa, eh? Sì, sì, sì. Ma che... Qui fuori, occhio, occhio qua. Eh, mi devo cacciare la cassa di ammo, io, però. Vai, vai, vai. Vattene, vattene. Sta lì, è davanti a te, però. Eh, sì, non lo vedo. Ah, sì, si è curato. Morto, mi sparano? Dentro, 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 dentro. Dammi le ammo, mi servono ammo. Sì, guarda, c'è un pacchetto qua, pure? Sì. Arrivano. Porco Dio. Ho ucciso la sorella strana, io. Bene, bene. Sono rimasti sti due, tuoi. Sì. Sono tutti due qui. Faccio una roba, provo un attimo a salire sul tetto. Eh, non te lo consiglio. Aspetta, 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 no, perché voglio lanciargli una bomba, voglio lanciargli una bomba. Vabbè, allora io mi faccio sentire qua sotto. Stanno qua sotto, eh. Aspetta. Forse uno lo prendo. No, non è morto. Morto, morto. È rimasto solo uno. Eh, va bene, vabbè. Ma sta scappando. Oh no. È laggiù. Deve essere dato le parti. O è morto l'amico? Qua. Qua? Sì, sì. È lui, lui, brucia di là. Non so con che brucia di là, aspetta. Aspetta, forse sta a usare il coso, eh. Forse sta a usare il romanzo. Eh, sì, sì, rocchio, sì. Aspettiamo, dai. Vi faccio vederli lì qua. Ma l'indizio è bianco, però. L'ho visto, è qua giù. È laggiù, laggiù. Mi sta mirando, è lì che mi mira. Me ne va? È là, si è allontanato un po' perché ha sentito l'automar. Mica, ma questo non c'aveva il label. Uh, aspetta, che c'è il cecchino, questo. Aspetta, aspetta. Se riesco a fare sto colpo, zio, lo svoltiamo, guarda. Lui è la fermola dietro. Se è ancora lì, è morto. Faccio un headshot che se lo ricorda. Tanto c'è l'huppercut, quello lì. No, cazzo, non è più lì. Dov'è andato? Qui è bianco. Eh no, lo sento qua, lo sento qua, lo sento. È lì, è lì, è lì, è ancora lì. Morto. No, vabbè. Ha, ha, ha.